Operazione per il contrasto dell'immigrazione clandestina dalla squadra mobile della questura di Cagliari che ha arrestato due uomini ritenuti ai vertici di un'organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione e che si preparava a fare entrare in Italia pericolosi clandestini. L'indagine, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Cagliari, ha visto la polizia e la guardia costiera procedere il 14 agosto a circa 2 mili a largo della spiaggia di Piscini all'abordaggio di un veliero di 17 metri, il corto maltese, battente a bandiera olandese. Gli agenti hanno eseguito due misure cautelari ammesse dal GIP del Tribunale di Cagliari a carico di Murad Zaoui, tunisino di 62 anni, e Gustav Paikert, tedesco di 26 anni, indagati per associazione a delinquere transnazionale, finalizzata a fare entrare in Italia stranieri privi di titoli di soggiorno. L'esecuzione delle misure cautelari è stata detta nel corso di una conferenza stampa tenuta stamattina nel Tribunale di Cagliari, si è resa necessaria perché era imminente il trasporto in Italia di alcuni migranti di origine magrebina, definiti uomini di potere e bombe per l'Europa. Il 14 agosto un aereo ATR 42 dalla Guardia Costiera ha individuato il corto maltese da 50 miglia a sud della Sardegna. Il veliero era monitorato anche da una microspia GPS e GSM installata dagli uomini della squadra mobile. L'abordaggio è scattato alle 20.30 quando due motovedette dalla Guardia Costiera, con a bordo anche gli agenti della squadra mobile, hanno intimato l'equipaggio di fermare la barca. Le indagini della squadra mobile sono iniziate il 30 agosto 2020 dopo lo sbarco a Capo Malfattano in provincia di Cagliari di 5 tunisini e 2 tibetani. L'organizzazione si faceva pagare dai 3.000 ai 6.000 euro a persona per il viaggio in Italia col veliero e il successivo trasporto in auto verso altri paesi dell'Unione Europea. Gli stranieri venivano prelevati dalla Grecia o dalle coste della Tunisia e dell'Algeria. Il corto maltese era gestito da Zauli che è anche l'armatore, mentre Paikert svolgeva le mansioni di manager di bordo e organizzava gli sbarchi. Sul veliero sono stati trasportati fino a 30 migranti.